musica 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 Ora tira un po' di gioia. 2009, i nostri 2010 del Novara. Tra poco il mister Yerac ci sta nelle ultime disposizioni, vediamo chi schiererà in campo per questo primo tempo. Ti chiedo subito, cosa sono? Tre tempi o dici che farà quattro tempi? Tre tempi da regolamento, tre tempi da venti. Tre tempi da venti sicuramente. Più un quarto supplementare, vediamo un po'. Come regola ai ragazzi. Dobbiamo ricordare che è la prima volta che giochiamo in questo bellissimo stadio. Sì, bellissima struttura, qui a Domodossola, struttura nuova, con tribune, campo d'atletica. Bella, bella, bella. E poi ricordiamo anche sempre il nostro ragazzo, Ghiotto Alessandro, che è proprio qui, proviene da Ghiotto. Sì, sì, sì. Oggi sicuramente sarà la sua partita. Sì, certo. Molto sentito. Sì, sì, infatti il mister Yeraci gli ha lasciato la fascia da capitano, giustamente. E grandi auguri alla famiglia Ghiotto. Aguri alla famiglia Ghiotto, giocano in casa loro quest'oggi. Vediamo i due capitani che si stringono la mano. Speriamo che sono amici. Possiamo già dare un'occhiata alla formazione, Yeraci, intanto. Allora, in porta abbiamo il nostro Ferrari. Coppia difensiva abbiamo Bonetti e Raiola. A centrocampo Ghiotto e Zonca. No, è Saporito. È Saporito. Sulla fascia sinistra abbiamo Vitale. In avanti abbiamo Perina e Megazzini. Sulla fascia destra Giacquinto. Questi sono i nostri novi. Non è Giacquinto, lo direi. Chi è? Jordan. Ah, Jordan, Jordan, scusate, Jordan. Jordan sulla fascia destra. Rimessa laterale per il Novara. Vitale si occupa della rimessa. Palla per Perina. Perina e mezzo. Megazzini. Palla per i portieri della Juve Domo. Imposta e mezzo. Riparte la Domo sulla fascia destra. Lancio lungo a cercare la prima punta. Bellissimo controllo in corsa. e si porta la palla sul fondo. Uh, attenzione. Ha gestito bene la palla? Sì, 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 sì. Buono, buono. Beh, c'è, insomma. C'è un bel fisico. Ricordiamo che i nostri ragazzi vi conosciano la prossima età. Sì, sì, sì. 2009. Sono quelli della Juve Domo. Allora, riparte Raiola. Palla per Ghiotto. Pallone intercettato. Ancora Juve Domo che è imposta. Palla e mezzo. Pericoloso per il numero dieci. Cerca spazio. Attenzione. Marcato ancora da Raiola. Direi che dobbiamo aver paura. Ma, vedo un fallo. Vedo un fallo. Sì, sì, sì. Abbastanza veloce, sì. Molto, molto veloce. Sì, sì. Si è guadagnato un bel fallo. Punizione sull'angolo di destra dell'area di rigore. Metterà una palla e mezzo, penso, Yuri. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Attenzione alla loro punta, che è molto alta. È marcata da Bonetti. Uh, palla intelligente. Bravo. Ferma tutto Ghiotto. Ancora il numero sette della Domo. Palla per il numero dieci. Bellissimo. Para Ferrari. Insomma, insomma. Abbiamo iniziato un po' i contratti, però la partita è lunga. Sottavoltiamo adesso. Sì, sì, sì. Avanza Bonetti. Palla sulla destra per Jordan. Ghiotto in posto e mezzo. Smisto sulla sinistra. Perina. Attenzione, prova Perina. Fare portiere. parte la Domo sulla destra ancora per il numero otto. Avanza, palla a piede. Si fa vedere la prima punta che fa sponda. Ferma tutto Raiola. Con una finta si libera dalla punta. Imposta sul centro. Palla ancora per Saporito. Saporito per Vitale. Fermato. Raiola. No, non si può dire. Attenzione, attenzione a questa ripartenza. Molto veloce questo numero sette. Uh, ancora Ferrari ci mette una pezza. Che rischio però, Yuri. Che rischio. Palla e mezzo ancora per loro al volo. Uh. Ah, attenzione però, Yuri, Yuri. Partenza contratta dei nostri. Abbiamo già corso, direi, due o tre rischi. Sì, 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 sì. Sono partiti veramente a mille quelli della Domo. Ripartiamo con Jordan sulla destra. Palla per Megazzini. Perina. Perina ha lo spazio per il tiro. Tre uomini addosso, fermato. Ancora Silotte in mezzo al campo. Uh, palla per Vita. Fermato. Palla al portiere della Domo. Ripartono palla al piede. Megazzini disturba la loro ripartenza. Ancora la Domo. Fermati. Ghiotto. Uh, bella entrata di Bonecchi. Ancora il numero quattro della Domo che smista sulla destra il numero otto. Palla e mezzo. Ancora Ghiotto recupera un interessante pallone. Prova il tiro! Eh, e c'è addirittura il gol. E c'è il gol. Senza paura, bravo, bravo. E c'è un gol. Azione improvvisa di Ghiotto che recupera un bellissimo pallone. E senza pensare, ha scagliato il suo sinistro a fil d'erba, si infila sull'angolino di destra del portiere. Ecco cosa vuol dire sentirsi sulla partita. Certo, certo. Certo, certo. Palla lunga della Domo. Federico, Raiola. Attenzione, c'era forse un fallo, non visto dall'arbitro. Punto e fermati. Un po' Raiotto. Fermato, palla per il numero cinque. E qui... Via, via, via! Sì, 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 stesso metodo di prima. Saporito in mezzo, saporito. Palla, bellissima palla per Baroni. Fermato, peccato. Però ancora lotta, vediamo un po'. Uh, ancora saporito. Palla per Vitale. Fermato, Ghiotto. Si guarda Ghiotto in giro. Cerca, cerca un compagno, lo trova dietro per Ico. Palla per Bonetti. Bonetti, uh, rischio, 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 rischio. Eh, fuori, che rischio. Ci siamo salvati, ci siamo salvati. Uh, meno male, meno male, meno male. Eh sì, eh sì, Yuri, guarda, abbiamo già corso al mino, al mino. Uno, tre, rischi, con l'uomo davanti al portiere. Ma siamo noi in vantaggio per 1-0. Comunque, vorrei dire che comunque i ragazzi del domo... Sì, sì, no, allora, loro hanno il numero 10 e il numero 7 in avanti, che sono molto, molto pericolosi. Bisogna stare molto attenti, eh. Comunque, Perina, fermato. Riparta ancora la doma con il numero 4. La smista è in mezzo, sì, bisogna stare attenti ai loro e contropiedi. E Gazzini, fermato, Ghiotto, Ghiotto, c'è Jordan di là, non visto, Vitale, la smista adesso lui sulla destra, riprende la palla Baroni. Giordano, 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 punta l'uomo, 1-2, consaporito, non chiuso l'1-2. Riprende ancora Giordano. Contrasto, si lotta in mezzo al campo. Bellissima palla ancora di Alessandro Ghiotto. Fernato in calcio d'angolo. Bravo, bravo, bravo. Dai, dai. Si occupa, si occupa della battuta, assaporito. No, no, è Jordan, Jordan, scusate. Jordan Baroni che si occupa della battuta. Palla e mezzo, vediamo un po'. Uh! Il portiere ci mette una persa, ancora caccio d'angolo per i nostri. Uno, due, tre, siamo in cinque in aria. Vediamo, spazi stretti, si lotta, attenzione. Palla sul primo palo. Vitale, fermato. Attenzione, la loro ripartenza. Uh! Grandi Abbonetti, ferma tutto. È fuori, è fuori, è fuori, eh. La palla era fuori, eh. Comunque Ferrari ci mette una persa. La palla a Yuri mi sembrava fuori, comunque l'azione è proseguita. Ma il nostro portierone Ferrari quest'oggi non lascia passare niente. Laterale, laterale. Pallo laterale. Si occupa Vitale della rimessa. Palla per Ghiotto. L'arbitro non c'è, non si schietta. Si, ce l'ha, ce l'ha, però. Lo uso poco, lo uso poco. Ancora Vitale. Perico! Al contrario del nostro arbitro, Orlando. Si, fischia poco lui. Comunque, Megazzini recupera un interessante pallone. Uh, per poco non passava la palla per Jordan. Sì, attenzione, adesso lì, fermati, meno male. Rimesso dal fondo, Ferrari si occupa dalla rimessa, palla per Bonetti. Bonetti, palla a piede, smista sulla sinistra per Vitale. Avanza Vitale. Palla e mezzo. Attenzione, un po' in ritardo Ale, ma comunque... Uh, Bonetti. Bravo, 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 bravo. Fermatutto ancora, Vitale. Saporito. Saporito, in avanti Perperina. Uno, due. Palla un po' lunga. Niente. Rimessa dal fondo per la Domo. Poi, una cosa del regolamento del campionato Fair Play, che la squadra che entra in primo tempo non deve essere cambiata. Devono giocare... Ah, questa è un'informazione importante, Yuri, che ci hai dato. Bene così. Riparte la Domo da dietro, ferma tutto Ghiotto, Ghiotto, cerca lo spazio per il tiro, palla per Megazzini, Megazzini. Uh, per poco. Palla al portiere della Domo. Vediamo un po', cerca un compagno libero, lo trova sulla sinistra, smista ancora sulla fascia sinistra, la Domo con numero 11. Due uomini addosso, si libera bene, palla in avanti sul numero 7, che si gira benissimo, molto bravo questo qua, eh, molto bravo. Molto bravo. Fermo a tutto ancora, Bonecchi. Saporito, saporito. Jordan. Jordan su Raiola. Avanza Raiola, palla al piede, cerca il compagno sulla sinistra, lo trova in Vitale. Vitale. Vitale si gira, cerca un compagno libero, non lo trova. Attenzione, punta l'uomo Vitale. Palla per Pierina, fermato, ancora Vitale. Palla indietro per Bonetti. Bonetti, smista e mezzo per Saporito, anticipato. Attenzione, palla lunga per il numero 7, per Fortuna. Prende la palla. Ah, è entrato cecchinato, però, Iure. La tua regola, che non si poteva fare i cambi, è stata infranta, eh. Entrato e cecchinato al posto di Ferrari. Vegazzini, Vegazzini, lavora una bella palla sulla destra. Palla indietro per Saporito. Bell'1-2 con Jordan. Saporito, palla in mezzo. Vitale. Vitale, ferma tutto ancora Bonetti, bravissimo. Palla lunga, cercare il numero 7. Raiola, in anticipo, Jordan. Raiola, 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 avanza, palla al piede. Cerca un compagno. Attenzione, qui alle loro ripartenze. Parte la Domo, parte la Domo, ancora Raiola, intercetta il pallone. Attenzione, 4, che è libero. Bravo, fuori gioco. No? No, cosa ha fischiato? Ha visto un fallo di mano l'arbitro. Non è rigore, ma... No, dai, rigore no, sarà punizione, ma rigore no. Ha visto questo fallo di mano, insomma. Sulla palla il numero 7, barriera 3, cecchinato, ordina 3 uomini in barriera. Siamo al quindicesimo, battuta. Grande cecchi. Grande cecchi. Si accartoccia sul pallone cecchinato. Ricordiamo che in tribuna quest'oggi c'è anche il papà di cecchinato. È tifosissimo Novara. Sì, tifosissimo Novara. Avevano due bambini nel Novara, due portieri. Eh sì, quest'oggi... Direi che è di obbligo. Purtroppo ci è toccato il papà, la mamma è andata a vedere il fratello maggiore a Novarello. Gioco fermo. Chi è che è rimasto a terra? Jordan? Jordan, mister Tessera, un po' di acqua santa in testa. Tutto a posto, si può riprendere. Ricordiamo che siamo al quindicesimo minuto. No, siamo al sedicesimo adesso. Sedicesimo minuto. Andiamo verso la fine di questo primo tempo con i nostri ragazzi in vantaggio per 1-0. Gol di Ghiotto Alessandro al quarto minuto con un rasoterra chirurgico alla destra del portiere. Lorenzo Vitale recupera questo pallone con una finta. Con una finta si beve l'avversario. Palla per Ghiotto. Ghiotto ne salta a due in un colpo solo. Bella palla per Perina. Perina si gira. Attenzione, è fermato dal difensore. Ancora la Domo. Vito dà fastidio e recupera ancora il pallone. Ah, qui l'ha preso sulla caviglia. Va bene, va bene, va bene così. Punizione per noi. E' bello che i nostri sono andati via tutti sperando che Vitale batta la punizione. extra lavoro per te sera quest'oggi con l'acqua santa. Allora, punizione. Siamo sempre in cinque in aria. Punizione, bella palla in mezzo. Uh, alta per Ghiotto. Peccato. Comunque Jordan ferma tutto. Riparte però la Domo. Bonetti, mostruoso quest'oggi. Largo. Difende la palla a Megazzini, palla per Ghiotto, cerca lo spazio e si appoggia sulla sinistra. Peccato. Non aggancia Vitale che ancora accusa il colpo di prima. Ricordiamo che Francesca Bonetti ieri aveva più di tutti gli anni. C'è come? E non ho ancora bevuto. Uh, attenzione. Attenzione, palla lunga per il numero 10. Uno contro uno. Oh, peccato. Uh, cecchinato. Ci mette una pezza. Grande, grandi i nostri portieri quest'oggi, Yuri. Veramente. Palla in avanti. Palla bella lunga. Attenzione. E sul portiere, palla in fallo laterale. Devo dire, Yuri, siamo onesti che loro, diciamo, che il pareggio lo meritano. Il merito, sì. Sì, sì, sì. Ed è grazie solo ai nostri portieri che siamo ancora in vantaggio. Ma il calcio è così. Si giocano anche i portieri. Sì, sì. Tante volte il portiere fa loro. Eh, sì, fa la differenza, certo. Jordan, Jordan, sulla destra. Bella palla e mezzo per Perina. In mezzo a due. Si gira. Riesce a dare ancora a... È saporito. Fallo laterale per i nostri. Manca un minuto alla fine. Comunque si è perso. Sì, ci sarà un minuto di recupero. Si è perso un po' di tempo con gli infortuni. Ancora Jordan. Bella palla per Perina. Bellissima sponda. Cerca il sinistro, Ale, Ghiotto. Palla per Vitale. Fermato, si lotta. E guadagna un bel fallo laterale. Vitale ancora per Ghiotto. Ghiotto cerca lo spazio per il cross. Fermato il calcio d'angolo. Mi sta di noto. No, no, no. Invece è rimesso dal fondo, peccato. Va bene. Palla sulla destra per la Juve Domo. Ancora da fastidio Perina. E riprende palla Perina. Bravo. Qui sì che c'è fallo. Qui sì. Qui sì. Pallo per i nostri. Va, Yuri. Prego, 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 prego. Yuri, fai zoom che golla. Yuri, qui, se c'era un destro, se c'era un destro, secondo me, si poteva anche provare. Però, 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 dalla postura, dalla postura di Vitale, mi sa che si è messo per un cross. Sì, sì, sì. Va bene così. Però, se, 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 se avvicinava qualcuno, si poteva provare anche un tiro in porta. Palla e mezzo, prolunga Megazzini, vediamo se ce la fa Jordan a mantenere il pallone. Sì, ce la fa Ari, guadagna anche una rimessa laterale. Bravissima. Baroni, rimessa laterale, palla per Megazzini, ancora Baroni, Baroni Jordan, fermato, riparte la Juve Domo, attenzione al loro contropiede, partito il numero 7, esce Cecchi, sì, Cecchi, e rilancia. Saporito, saporito, fermato, però, palla, palla per Cecchi, che addomestica la palla, attenzione, Raiola, avanza, avanza palla al piede, palla per Ghiotto, Ghiotto, palla per Megazzini, Megazzini, palla sulla destra, bellissima azione dei nostri, adesso, saporito, saporito, palla per Megazzini, oh, peccato, era una buona occasione, forse l'azione più pericurosa dopo il gol. È gol! Infezione, ma è gol? Allora è gol, è gol, è gol, è gol, 2 a 0, 2 a 0, gol di Megazzini, sì, 2 a 0, bravo, 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 gol di Francesco Megazzini, e siamo 2 a 0, bene così, palla per Raiola, Bonetti, e finisce qui, finisce qui, due parole, due parole, allora, il risultato è un po' bugiardo direi, comunque siamo in vantaggio 2 a 0, gol di Alessandro Ghiotto, gol di Francesco Megazzini in chiusura, abbiamo sofferto, specialmente le loro ripartenze, in avanti loro sono molto pericolosi, numero 10, numero 7, sono veramente bravi, bene così, siamo avanti 2 a 0, ci sentiamo dopo per il secondo tempo, a dopo. Grazie.